Da oggi comincia una nuova bellissima avventura, alla guida dell'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, al fianco del presidente della regione siciliana Renato Schifani, che ringrazio per la fiducia. C'è tanto da fare per il nostro patrimonio, che è già ricchezza e che va rilanciato ed utilizzato con nuove e più fresche idee. Lo dice in una nota Ilvira Amata, assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Anche con il coinvolgimento delle università siciliane e dei giovani, i quali vanno avvicinati ed interessati ai musei, ai parchi archeologici e a tutti i beni patrimoni dell'UNESCO, alla cultura in generale, aggiunge. Un pensiero particolare infine va alla mia città, Messina, che da anni non esprimeva nella giunta regionale un assessore e alla quale mi dedicherò con l'amore di sempre, conclude con una nota, Ilvira Amata, nuovo assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.